Salve a tutti ed eccoci qua con una nuova ricetta, le patate al forno che faccio io, semplici ma buonissime da gustare. Allora cominciamo con il togliere la buccia ovviamente, dopodiché le tagliamo a rondelle così ecco di questa misura e spessore, dopodiché io le risciacquo sotto l'acqua corrente fredda per eliminare l'amido fino a quando l'acqua non diventa bella, limpida e trasparente. Le faccio scolare, le dispongo su di un canovaccio così per circa 10 minuti, un quarto d'ora, però fino a quando insomma non le vedete ben asciutte. Dopodiché le vado a disporre su di una placca da forno con un po' d'olio d'oliva sotto, parmigiano sopra, un po' di sale in forno ed ecco qua sono pronte le patate buonissime. Ciao ciao, un bacio.